Allora, video faccio per Andrea Campagna, faccio vedere quali pipe ci sono in Svizzera, quanto costano, è così questi pipe, è diversi, prezzi è questi, ciao Andrea, guarda qui, mamma mia, questa è una doppia, una doppia, oh io qui non capisco niente, 9 mm, c'è anche questa, c'è anche questa, 50 euro, in alto 35, oh mamma mia, che cos'è questa roba, oh mamma mia, quanti sigari Andrea, Andrea Campagna, guarda qui, che bellezza, prezzi non ci sono, mamma mia, quanta roba, quanti sigari, qui ci vuole che tu capisci qualcosa, guardate che bastone, più grosso, più corto, qui anche tutti i cortelli, i cortelli non devono mancare tutti, 47 franchi, 39 franchi, 45 franchi, questi è franchi, tutto franchi, si paga, guardate, forbici, 59 franchi, forbici, apri bottiglia, mamma mia, pedicure, manicure, in uno, prendi uno e ce l'hai tutto, tutto, tutto e di più, oh che amore, questi svizzeri proprio forti, guardate, guardate che pippe questi qua, oh c'è pippa 245 euro, oh mamma mia, c'è una che costa 265, ci sono diversi, diversi, e questi qua costano 50 euro, altri cortellini, cortelli non devono mancare, oh quanta roba, 50 franchi, questo costa, guardate com'è complicato questo qua, 90 franchi, questo più grosso, che costa 90 franchi, qui c'è tutto, tutto in uno, oh guardate cortelli, questi qua, 25 euro cortelli costano, 16, diversi prezzi, portaceneri, 9 euro, c'è tutto qui, se qualcuno interessano pippe, questi pippe, sigari, c'è mio amico Andrea Campagna, iscriveteci Andrea Campagna e vedete tutto di sigari, lui parla solo di sigari, di pippe, molto esperto, ragazzo bravo, il canale si chiama Andrea Campagna, guardate quanti sigari ci sono, qui siamo in Svizzera, tun, tun, e ci sono questi magri, lunghi, più lunghi, più corti, sapore di vaniglia, di altri sapori, virginia, hai sentito virginia, che significa virginia? Un profumo forse, chissà, cubani, da dove vengono questi sigari, quanto costano non lo so, prezzo non ci sono qua, è così, iscriveteci al canale, e che pippe grossi questi qua, mamma mia, Andrea Campagna, dai, Andrea Campagna, scriveteci, e fate un regalo a questo ragazzo che è molto bravo, e noi andiamo avanti, andiamo, 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 questa luce, poca gente, perché Svizzera, le 9, già vanno a letto, ecco, qualche giovane si muovono qua, ma non ci sono, tutti a letto, qui c'è fiume, guardate che ragno, ragno ha fatto questa rete, e quanti moscherini schiappati, tutti morti già, tutti i cadaveri così, interessante, questa luce, c'è lucina, è così,